Buongiorno a tutti! Allora, oggi vi lascio la video ricetta dei tanto promessi e mai arrivati finora hamburger di spinaci al forno hamburger, polpette, polpettone ci potete fare quello che volete ovviamente cioè potete dare la forma che volete ovviamente io faccio fondamentalmente delle grandi polpette schiacciate quindi li chiamo hamburger per quello e ovviamente sono facilissimi ma anche ve lo dico leggeri non sono pesantissimi diciamo non ci sono aggiunte di olio il fatto che si cuociono in forno sicuramente li rende più leggeri rispetto a quelli fatti in padella magari con l'olio non ci sono aggiunte di latticini ma sinceramente questi hamburger fatti con la mozzarella o l'aggiunta di parmigiano qualche pecorino qualche formaggio insomma qualche latticino sono buonissimi molto molto buoni sono morbidi rimangono morbidi esattamente come la ricetta poi è pressoché identica a quella delle polpettine di zucchine che abbiamo fatto solo che in questo caso abbiamo gli spinaci cotti non crudi come abbiamo fatto le zucchine vi lascio comunque la ricetta e c'è la carne cosa che ovviamente non c'era nelle polpettine di zucchine perché c'era la ricotta in quel caso qui c'è lei intanto e niente ovviamente potete personalizzarla come volete perché stai facendo queste ricette di cose che sembrano più o meno tutte uguali perché io come tanti di voi ho una bimba e spesso anche il bimbo diciamo che ultimamente fa difficoltà nel mangiare determinate verdure le onora praticamente tutte e quindi con questo escamotage riesco a fare qualcosa di buono che posso mangiare tranquillamente anch'io e loro lo mangiano più che volentieri tra l'altro quando facciamo questi hamburger io di solito li faccio a cena perché a pranzo in giornate normali sono o soltanto io oppure mio marito quindi questo io di solito lo faccio a cena ma adesso in zona rossa ovviamente mangiamo tutti bisogna vedere poi se e quando torna mio marito ma insomma ci siamo noi noi tre sicuramente quindi ho approfittato un pochino del raggio di luce vago che entra dalla finestra della mia cucina e quindi li ho fatti a pranzo quando li facciamo a cena possiamo anche fare una serata hamburger direttamente quindi con le salse oppure con l'insalata oppure con della mozzarella o con una sottiletta ok e con il pane da hamburger quindi anziché usare quelli magari già pronti oppure quelli del macellaio insomma si possono fare a casa unendo anche una buona quantità in questo caso di spinaci che abbiamo appunto messo e basta questo è quanto ovviamente io ho usato macinato misto a me piace bovino suino si possono fare anche col pollo col tacchino come come volete bisogna stare attenti al livello di umidità gli spinaci sono stati cotti spinaci surgelati senza aggiunta di acqua quindi devono essere umidi ma non devono essere grondanti perché altrimenti ovviamente la pallina non si formerà però è importante che rimangano che il composto rimanga sempre molto umido perché la cottura in forno ovviamente tende a seccare questi rimangono così come le polpettine ripeto molto morbidi e sono saporiti sono buoni da mangiare sono relativamente sani per quanto un hamburger lo possa essere e niente a noi piace mamma vuoi una quello vuoi una bruschettina va bene vi lascio alla ricetta e ci vediamo al prossimo video ciao iniziamo con un'inquadratura che si è rovesciata va bene giuro che poi torna normale allora mettiamo a soffriggere un po' di cipolla io ho scelto quella rossa perché avevo quella rossa e e poi mettiamo mezzo chilo circa di spinaci surgelati e lasciamo cuocere inizialmente con il coperchio una volta che hanno iniziato ad ammorbidirsi ho tolto il coperchio perché l'idea è quella di cuocere gli spinaci lasciandoli umidi ma senza aggiungere acqua quindi aggiustiamo di sale e pepe e lasciamo continuare a cuocere ripeto devono asciugarsi ma rimanendo comunque umidi io di solito capita quando si cuociono gli spinaci di aggiungere acqua ecco non aggiungetela adesso sono morbidi e iniziamo a prepararli allora c'è circa mezzo chilo tra macinato di bovino e macinato di suino in una ciotola un uovo intero ne avevo un altro lì come diciamo per qualsiasi evidenza ma ne basta assolutamente uno aggiustiamo di pepe e aglio in polvere se vi piace a noi aglio e cipolla non ci spaventano per niente per cui li gradiamo parecchio e quindi ho messo sia l'uno che l'altro e si mescola si mescola si mescola si mescola ovviamente come vi ho detto prima questi hamburger potete poi aggiustarli come più vi piace se c'è qualche spezia che vi piace di più se c'è qualche aggiunta che volete fare un formaggio una mozzarella un salume magari dello speck del prosciutto come volete allora ho fatto circa mezzo chilo di spinaci non li ho usati tutti perché mi sembravano sufficienti per cui saranno circa 350 grammi a occhio ma tanto sono stati cotti e anzi erano veramente buoni una volta cotti quindi quelli sono stati poi un ulteriore contorno li tagliuzzo ora i miei bambini li gradiscono tagliuzzati senza problemi qualora abbiate bambini o adulti che non gradiscono invece gli spinaci neanche a pezzetti si possono sempre passare al frullatore ad immersione per una frullata leggera ovviamente cambierà la consistenza della polpetta o dell'hamburger però si possono tranquillamente frullare quindi una volta tagliati a pezzetti li ho uniti al composto ecco qua cercando di non sprecare quasi nulla e poi ricominciamo a mescolare il composto deve essere come vi ho già anticipato deve essere morbido gli spinaci sono ovviamente molto acquosi quindi in questo ci aiutano parecchio e perciò insomma è abbastanza facile mantenere il composto morbido l'importante è non aggiungere troppo pangrattato perché altrimenti si secca e la cottura in forno ripeto si tende a seccare ovviamente parecchio anche perché di composto grasso non c'è olio qui e non ci sarà olio neanche in cottura quindi ci limitiamo ai grassi della carne e dell'uovo ho aggiunto del sale per la carne e poi del pangrattato sto utilizzando dei cucchiai piuttosto piccoli quindi in realtà sono dei cucchiai da minestra per bambini e io ho messo due cucchiai adesso mi pare se non ho visto male visto che sto facendo il waste over e poi mi pare ne aggiungerò un altro quindi io direi tre cucchiai poi ovviamente vi dovete regolare anche in base alla grassezza della carne che avete dell'acquosità degli spinaci che avete quello insomma è tutto purtroppo posso dare delle ricette così delle indicazioni degli ingredienti a occhio a seconda di quello che ho usato però ovviamente questo lo dovete vedere voi e niente quindi si continua a mescolare e abbiamo fatto è tutto piuttosto semplice mentre ho iniziato a fare le polpettine ero convinta di aver girato per fortuna me ne sono accorta e non si era schiacciato play vedete il composto è molto morbido quindi fate delle piccole palline senza premere troppo in maniera molto delicata e poi io per gusto mio lo schiaccio per formare un piccolo hamburger si passa leggermente nel pangrattato e sono pronte è molto diciamo che una volta che fate la cottura degli spinaci il più è fatto si può preparare anche in anticipo ma anche queste si possono preparare in anticipo e volendo stando attenti ovviamente che non si tratti di carne decongelata si potrebbero alla fine anche congelare perché basterebbe metterli così con una teglia in freezer e una volta che iniziano a congelarsi trasferirli direttamente in una bustina così non si attaccano l'uno all'altro ne sono usciti circa 14 se non sbaglio e siamo pronti per il forno quindi forno preriscaldato a circa il mio circa 220 gradi ventilato e dopodiché dopo 15 minuti il forno ventilato dopo 15 minuti li ho girati e li ho lasciati tra i 5 e i 10 minuti ovviamente quindi vi posso dare un'indicazione di 20 25 minuti di cottura ovviamente dipende sempre dalla potenza che ha il vostro forno quindi regolatevi devono leggermente dorarsi da una parte e dall'altra ed eccoli qua sono rimasti morbidi saporiti li abbiamo fatti fuori in un secondo tutti e quattro i bambini li hanno adorati e quindi se li provate fatemi sapere ciao ciao ciao